Soltanto alcuni giorni fa, nel corso dell'intervista rilasciata a Merissimo che sarà trasmessa sabato 27 maggio su Canale 5, Belen Rodriguez aveva fatto sapere di essere pronta a diventare di nuovo mamma. A pochissimo tempo da queste affermazioni, alcuni attenti fan della protagonista di Selfie e le cose cambiano hanno scovato su social network un indizio che annuncerebbe un'importante novità su questo argomento. Un paio di giorni fa, infatti, Belen ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un video che mostrava il suo compagno mentre faceva colazione. Chi ha guardato quel filmato con attenzione, però, ha notato che di fronte alla Rodriguez, sul tavolo, si vedeva in primo piano un farmaco che solitamente usano le donne in dolce attesa. Se Belen si è già in attesa del suo secondo figlio non si sa ancora con certezza, certo è che quel farmaco avvistato sul suo tavolo sembra proprio un chiaro indizio che lei e Iannone sono seriamente intenzionati a diventare genitori al più presto. La Rodriguez e il campione di MotoGP si sono conosciuti circa un anno fa e, dopo un'estate vissuta da amici, si sono fidanzati a settembre scorso in gran segreto. La decisione dell'Argentina di annunciare la sua nuova relazione, è arrivata soltanto in autunno inoltrato, quando ormai tutti i giornali l'avevano paparazzata mentre si scambiava in equivocabili effusioni con il motociclista.